Come colpire col taglio esterno della mano, quindi col quinto metacarpo. Quali sono i motivi per cui per me si colpisce di taglio punto? Chissà un po' di basi di fisica, sa che a parità di forza esercitata, se l'area sulla quale insiste quella forza è la metà, la pressione sarà doppia. Col taglio della mano procuro un danno maggiore che con il pugno. Io vi suggerisco al collo colpire o frontalmente o di taglio. Catalogate il collo come una zona sulla quale colpire di taglio. Com'è composta la mano? Voi sapete che abbiamo 27 ossa in quest'area. È la parte del corpo in cui sono concentrato il più alto numero di ossa. Devo contrarre tutti i muscoli dell'avambraccio e della mano per serrare. Dita, contratte, mano leggermente flessa in questa maniera. Deve tremare per quanto tenete in tensione. A quel punto potete sperimentare come colpire. Concentratevi. Questa è la zona con la quale colpire. E potete fare un po' di questo esercizio. Prendere confidenza. 27 ossa che devono diventare un osso unico. A noi interessa colpire dietro le cervicali. Dovete immaginare di essere in un duello. Ho una persona davanti a me armata con la pistola puntata. Anche io ho la pistola puntata. Siamo uno a due metri dall'altro. Scordiamoci la tecnica. Il primo che premerà il grilletto vincerà lo scontro. È impossibile mancare una persona a due metri da te. Se non visualizzate, immaginate situazioni nelle quali andrete a colpire alle cervicali, non lo farete mai. Quando potete, non vi costa niente, siete in macchina, state camminando. Pensate, e se questa persona a ore 10 fosse l'aggressore? Praticheremo insieme immaginando che stiamo colpendo verso il basso e che la persona che stiamo colpendo si trova sopra alla vittima e magari la sta colpendo o magari la sta trattenendo. Non c'è casco che tenga. Cioè se una persona ha il casco, ha protetta tutta la testa, ma il collo è sempre libero, altrimenti non si può muovere.